Ciao a tutti amici sono sempre io Gold e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica Tech Place Oggi siamo di nuovo su Space Engineer sebbene sia venerdì Questo perché non sono sicuro di riuscire a finire di costruire la nave per il costruirci la tua flotta Quindi mi tengo un episodio diciamo extra della serie survival Se riesco comunque a finire di costruire la nave venerdì vi beccate due video Comunque nella puntata di oggi andremo a iniziare a costruire la parte degli assemblatori E spero anche di riuscire a finirla Per ora non ho bene in mente come farla ma vedremo un po' cosa ne esce Direi che posso iniziare subito e tanto ho un casino di cose da produrre perché sono rimasto Senza materiali Ragazzotti piccolo aggiornamento per coloro che hanno visto la live su Twitch Quando l'abbiamo fatta su Space Engineer Ho costruito questo piccolo non so cosa Piccolo impalcatura diciamo sui container grandi Ancora effettivamente sono inutilizzati Ma se riusciamo a costruire effettivamente la parte che dobbiamo costruire oggi troveranno subito un utilizzo Nella live c'eravamo già preparati la parte dei trasportatori che si sarebbe dovuta connettere alla nuova parte degli assemblatori Quindi andiamo e nel mentre ho messo in produzione 100.000 lastre d'acciaio No vabbè 4.000 lastre d'acciaio perché sono decisamente senza Spero non mi finiscano i materiali cioè i lingotti perché quello sarebbe un grande problema Ragazzotti come per l'altra costruzione ho deciso di seguire la linea del ponte Adesso devo ancora costruire i supporti ma questa qua è la base E già da qua sto costruendo la stanza per gli assemblatori che sarà relativamente piccola Perché ci saranno sì un buon numero di assemblatori Adesso sto pensando se 4 o di meno Però non richiederà altri componenti come invece la stanza delle raffinerie Questa qua semplicemente sarà una stanza molto piccola Dove ci saranno questi assemblatori che lavoreranno e faranno partire di nuovo tutti i componenti Alla volta di questi due container Molto semplice Ok ragazzotti questa qua è la nostra base per ora La base sulla quale dobbiamo lavorare E... Oh mio dio l'ho fatta simmetrica No 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 Ok poi correggo E... E semplicemente qua ci sarà questa stanza e gli assemblatori Adesso devo ancora costruire tutti i supporti sotto I vetri di copertura Le pareti Il tè Tutto Sostanzialmente tutto Corretta Ok ragazzotti allora piccolo aggiornamento Questa qua è la struttura finale Come vedete Sono riuscito a dargli anche quello stile bombato E questo è all'interno Per ora ancora non c'è niente Sono riuscito a costruire già tutti i trasportatori Ma... Ma mi manca il ferro Quindi devo raccoglierlo E continuare i lavori Ovviamente poi raccolto il ferro Potrò tranquillamente finire la... Il resto della struttura E i sistemi interni Vabbè vado a prendere il ferro allora Ok ragazzotti allora Sono riuscito a costruire gli assemblatori E sono riuscito anche a tenermi degli spazi extra Per aggiungerne altri E soprattutto per aggiungere dei... Degli upgrade Come vedete sono riuscito a tenere questa parte di sinistra E una parte di destra ciascuno Poi ovviamente la parte centrale sarà o di uno o dell'altro Per gli upgrade Per i moduli di... Che possono essere di efficienza E efficienza energetica e produttività E questa è un'ottima cosa Qua potenzialmente potrebbero esserci altri due assemblatori Ma per ora voglio rimanere con quattro Il problema del ferro si è ripresentato Non sono ancora andato a prenderlo Ho voluto utilizzare tutte le risorse al massimo Prima di dover effettivamente Partire con la mia navetta maledetta Per andare a prendere il ferro A questo punto mi trovo costretto ad andare Quindi facciamo un taglio tattico Per evitare questa mezz'ora E forse qualcosa di più Di me che scavo e mi rompo i copi Ma che figata sto nuovo effetto Ma che cos'è? Bellissimo Sì lo so lo so Ok e iniziamo lo scavo E speriamo bene soprattutto Io intanto cazzeggio Perché la nave fa tutto in automatico Quindi bene così Ragazzotti ci ho messo meno del previsto Ma la navetta è tipo strapiena E ho paura che non riesca a salire Abbiamo una cosa come 58.000 No 55.000 unità di ferro Che poi sono chili Non so perché continuo a dire Sì infatti 55.000 chili di ferro Non so perché dico unità Unità di peso lol E niente devo tornare Il più velocemente possibile All'hub prima che muoia la navetta E tipo non ho molto Tipo per niente Quindi mi devo dare una mossa Tantissimo Senza possibilmente inclinarmi O morire E distruggere la navetta Possibilmente E speriamo bene Ok ragazzotti siamo fuori E la navetta pare essere salva Tipo se non utilizziamo così La navetta Che va a 7 secondi di Tempo di carburante Allora siamo salvi Però io Non si sa mai È crashato Non ci credo Tu non sei crashato Space Engine Non sei crashato Non l'hai fatto Ok non è crashato Non è crashato Non è crashato L'ansia La paura Il sovraccarico Vabbè Attracco E vediamo subito Come funziona La nuova zona Dai Dato che ancora Non l'avevamo provata Aiuto Andiamo Ok Dobbiamo scendere lì Possibilmente Quando vuoi Tranquilla Prenditi il tuo tempo Ok Scendiamo Let's Andiamo Così Ci siamo Sì Ci siamo Teoricamente Il connettore Grazie Ce l'abbiamo fatta Tempo carburante Due ore Numero di batterie In uso Bla 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 Devo vedere La batteria È in ricarica Perfetto Ok E niente C'è andata bene Diciamo Andiamo subito A vedere Come stanno operando Le Le raffinerie E come si sono distribuiti I materiali Minerali Quelli Allora Spegniti La La sento qua La sento anche Non lo so Inventario Ferro Andiamo subito A vedere Output Lingotti Ok È tutto nella raffineria 9 Bene Già bene Raffineria Aha Anzi sapete cosa Fornace ad arco Andiamo a cercare Una fornace ad arco Fornace Fornace ad arco 15.000 Anzi Diciamo 30.000 Qua E poi lo dividiamo Con questo In 15.000 Che ha un ottimo Output Ed è molto più veloce Perfetto 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 Andiamo subito A vedere Quanto ferro Sta producendo Anche se L'ho intravisto Inventario E siamo già Un 24.000 Ottimo 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 Ragazzotti E niente Continuo la produzione A questo punto Da dove mi ero bloccato Ok Allora In produzione Ci sono il resto Dei componenti Ma nel mentre Mi occupo un po' Di costruire Allora Componenti di costruzione Che sono Ancora In costruzione Tubi d'acciaio Piccoli E niente Dalla fine Sono sempre I soliti materiali Che vengono richiesti In grandi quantità Per coloro Che Magari pensano Gold Ma hai costruito Tutte quelle Quelle raffinerie E questi assemblatori Magari poi Non li vai neanche A utilizzare Potete avere ragione All'inizio Effettivamente Perché ancora Non abbiamo Una grandissima Produzione Di materiali Ma per coloro Che vengono Dal vecchio canale E che Aia che botta E che conoscono La vecchia serie survival Si ricordano Sicuramente Che appena costruita La base mobile E appena testata Abbiamo raccolto Una quantità Immane Di Di materiali Stiamo parlando Di tantissimi Tantissimi Materiali Una cosa come Un milione Di chili Di nickel E Abbiamo riempito In un colpo solo Tutte le raffinerie Quindi Diciamo che Questa Questa stanza qua Sarà utile Più avanti Quando dovremo affrontare Grandissime costruzioni Vedi La nave Da Anzi La nave Che ci farà uscire Semplicemente Dal pianeta Perché Ragazzotti A seguito di una live Mi è stato consigliato Di abbandonare Il design del razzo Modulare Che tra parentesi Io adoravo Ma a quanto pare A voi non piace E di buttarmi Su una nave Ho accettato l'idea E niente Semplicemente Costruiremo una nave Sarà anch'essa Modulare Ma in un modo Un po' diverso Adesso Vediamo Di costruire Anche I vetri E poi possiamo iniziare Con le connessioni Per La La zona storage Ok ragazzotti Piccolo Aggiornamento Adesso Andando a prendermi L'idrogeno Ma Ho Teoricamente Finito Tutta la struttura Interna Compresi i trasportatori Devo Soltanto Divertirmi Un po' Con i Dettagli Mettere le luci Un po' Di Così Abbellimento Per ora E poi posso iniziare A collegarlo Con tutto il resto Della base Ci sarà Poi da fare Anche Tutto un Trasporto Verso Questo Container Qua Oppure Questi Container Della Della zona Storage Che sarebbe Ancora meglio E niente Io credo Lo farò Off camera Alla fine Non ho Tutti Questi Minerali Adesso Come Deposito Come vedete E come vi ho detto Mi stavo divertendo Un po' Con i dettagli Adesso devo mettere Tutta una serie Di luci Ma guardate Che effetto Fa Tutta questa serie Di trasportatori Che con le loro Lucette belle Gialle Rendono questa stanza Praticamente La scorza Di un limone Cose a caso Allora Devo ancora mettere Tutti gli upgrade Ma non dovrei Metterci molto Quindi Niente Vediamo poi Alla fine Il risultato E devo ancora Fare il tetto Effettivamente Potrei metterci Le pannelli solari Che schifo Non fanno Non lo so Sono tutti Tutte idee Ok ragazzotti Allora Questo qua È il design finale L'ultima cosa Che mi è uscita E Devo dire Che sono davvero Davvero soddisfatto Mi piace davvero Tanto Questo Questo piccolo Dettaglio sopra Sono riuscito A metterci dentro Tre pannelli solari E guardate Da dentro Che bello È qualcosa Di spettacolare Allora Facciamo un giro Veloce Qua a sinistra Abbiamo una piccola Piattaforma Intermedia Che ci porta Alla parte di sopra Degli assemblatori In caso Dovessimo Inserire manualmente Dei Dei materiali La stessa cosa C'è di qua Abbiamo delle Delle luci Più o meno ovunque Ho scelto il colore giallo Così Senza un motivo Specifico E Qua a sinistra Invece abbiamo I Pannelli LCD Ancora da configurare E che configurerò Più avanti Perché ancora Non abbiamo la stanza Del controllo E comunicazione Dove ci saranno Poi tutte le informazioni Sui Sui vari materiali E le produzioni Attuali Di qua ragazzotti Vedrete dopo Oddio mi sono dimenticato Le finestre Dopo Vedrete la La costruzione Del Del condotto Che arriverà Ai Ai container Grandi Dove ci sarà Poi lo smistamento Dei vari minerali No Dei vari componenti E niente Mi metto al lavoro Per farlo Ragazzotti Uno degli ultimi Aggiornamenti Perché stiamo quasi Per finire il lavoro E ho costruito La rete Di trasportatori Fino alla zona storage Qua E ho già connesso tutto E sta anche già funzionando Veramente Ho già messo in funzione Due assemblatori Credo Forse solo uno Per la produzione Di componenti Di costruzione E Ha già funzionato Questo qua è un semplice Ordinatore Lo chiameremo filtro Che aspira tutti I componenti Munizioni Strumenti E le varie bottiglie Quindi di ossigeno E di idrogeno E li trasporta direttamente Nel primo container Quando il primo container Sarà Pieno Mi è finito l'idrogeno Adesso tipo Allora passerà al secondo Ora termino con Un po' di Anche qua Ancora un po' di dettagli Cioè nel senso Lo rendo un po' più guardabile E Dopodiché ci salutiamo Ok ragazzotti Questo qua è il risultato finale Di Una completa divagazione creativa E Ho semplicemente cercato Di abbellire un po' Il condotto esterno Più o meno Diciamo che è una missione Semicompiuta E E niente Questa puntata ragazzotti Termina qua Oggi ho fatto tante cose Non so adesso come verrà l'editing Se vedrete tante cose O un po' di meno Comunque vi posso dire Che ho registrato per molto tempo Io come al solito Vi ringrazio per avermi seguito Vi invito a lasciare un mi piace E un commento Dicendomi cosa ne pensate della serie Se sta andando bene Se avete degli obiettivi extra Se avete dei consigli Qualsiasi cosa Voi Postatela pure Nella prossima puntata Vedremo di Ampliare sempre l'hub Ma con qualcosa di diverso Qualcosa che non c'entra Con la produzione di materiali O di lingotti O di lingotti Ma un'altra stanza Adesso non vi dico nulla Se volete provare a Indovinare nei commenti Ma non vi sto dando indizi E ragazzotti Vi posso dire Che nelle prossime puntate Inizieremo Quell'obiettivo extra Che era Costruisci una base mobile Per la raccolta di minerali Una cosa del genere Così amplieremo Anche la raccolta di minerali Che è uno degli obiettivi Principali della serie Ho parlato anche troppo Per quest'outro Io vi ringrazio ancora Noi ci vediamo Al prossimo video Bye bye Mi raccomando ragazzotti Non dimenticatevi Di seguirmi anche su facebook Su twitch Sul canale di telegram Sul server discord C'è tutto qua sotto In descrizione